Un freno all'abusivismo? Forse sì, ma intanto il governo regionale blocca il piano di demolizioni e scoppiano le polemiche, con diversi deputati che parlano di ipocrisia e legambiente che denuncia una sanatoria mascherata. C'è tutto ciò nella via libera della quarta commissione legislativa dell'ASA al disegno di legge del governo musumeci in materia di abusivismo edilizio e di tutela del territorio. Il provvedimento che adesso andrà all'esame dell'Aula impone ai sindaci l'immediato sgombero e l'interdizione all'uso di tutti gli immobili realizzati in totale assenza di titolo abitativo nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata e in quelle sottoposte a vincolo di inedificabilità che implichino rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica. La disposizione si applica anche nel caso in cui risulti presentata istanza di sanatoria non ancora esitata. Il disegno di legge del governo presentato nello scorso novembre subito dopo la tragica alluvione di Casseldaccia prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge i comuni dovranno individuare nei propri territori fiumi, torrenti e impluvi che abbiano caratteristiche di corsi d'acqua pubblica e le rispettive fasce di rispetto in misura non inferiore a 30 metri per le aste fluviali dotate di argini e di 50 metri negli altri casi. La pena per i sindaci inadempienti sarà la decadenza dalla carica. La norma approvata in Commissione Territorio prevede anche l'istituzione di un fondo di rotazione di un milione di euro al quale i comuni potranno accedere a favore delle famiglie destinatarie dei provvedimenti di sgombero per soddisfare l'urgente necessità abitativa per un periodo non superiore a due mesi.